Importanti novità per il bacino idrico del Gran Sasso e per la sicurezza degli automobilisti che percorrono le autostrade a 24 e a 25. La prima è emersa nel corso di un incontro all'Aquila. Entro file 2021 sarà pronto lo studio di fattibilità relativo alla messa in sicurezza del bacino idrico del Gran Sasso. Nell'incontro il commissario straordinario Corrado Gisonni, era presente anche il presidente della regione Marco Marsilio, ha mostrato i risultati delle ispezioni e delle ricognizioni effettuate prima della redazione del progetto. Era presente anche il commissario per la messa in sicurezza da 24 e a 25, Maurizio Gentile, che con Gisonni ha firmato un protocollo d'intesa affinché le due strutture commissariali possano dialogare e collaborare. Su tempi e costi dell'intervento ancora ci sono delle incertezze, ma il commissario ha ribadito che ormai due vecchi studi di fattibilità erano superati. In un anno e mezzo la struttura ha fatto una ricognizione delle canalizzazioni sotterranee tombate 40 anni fa dopo la fine della costruzione del traforo e mai ispezionate finora. Per questo l'intervento viene considerato straordinario. I tecnici, grazie a tecnologie moderne, hanno mappato cunicoli, pozzetti, tubi e condotte per riprodurli sul pc e progettare gli interventi, ma anche per un domani, per gestire l'infrastruttura strategica. La fase dell'ispezione è finita, per cui non ci dovrebbero essere altre chiusure, da qui a dicembre del traforo. La struttura intanto è prorogata a fine V2023. Oltre a questo, sulle autostrade saranno montate delle barriere di sicurezza contro gli accessi della fauna selvatica che andranno a sostituire quelle esistenti. C'è l'intesa tra il Parco Nazionale e Strada dei Parchi, promosso dal prefetto. Le barriere di recensione saranno alte 2,60 m e fatte con rete zincate ed elettrosaldata, ma il sistema di maglia impedirà anche l'attraversamento di animali più piccoli. Lavori che partiranno dalla Marsica in un primo lotto di oltre 87 chilometri. Al tempo stesso il parco promuoverà una campagna di sensibilizzazione con della cartellonistica che inviterà l'automobilista alla prudenza e al rispetto dei limiti di velocità per sé e per gli altri. Grazie.